Si scrive GOP e si legge Stato di agitazione al Cardarelli Tutti Uniti contro il nuovo sistema informatico per la rilevazione delle presenze. Dispositivo costato almeno 300.000 euro, già testato in altre tre aziende ospedaliere della Campania e dal primo aprile scorso in funzione anche del nostro comio napoletano. Il sistema, come denunciano i sindacati, segna in maniera ottusa l'orario di arrivo programmato dai primari ad inizio mese, senza considerare per esempio che sarebbe inutile per un neurochirurgo, che ha un intervento fissato per mezzogiorno, presentarsi in ospedale alle 8 del mattino, vale a dire all'orario incamerato dal sistema GOP. Il punto qual è? Che in un sistema paese che è verso la sburocratizzazione, invece il Cardarelli ha messo in piedi un sistema di controllo farraginoso e complicato, ma non è finito qui. È legittimo il diritto dell'amministrazione di controllarci ed è altrettanto legittimo che in questo controllo siano rispettati i nostri diritti. I medici regalano 300-400 euro all'anno di straordinario, devono essere riconosciuti, se non pagati, ma perlomeno il riposo psicofisico in un ospedale che è aggredito da un carico di lavoro insostenibile. E intanto lo scontro tra sindacati e commissario straordinario va avanti, non un passo indietro sostiene la NAO fino al ritiro del GOP. Il commissario ci deve richiamare, sospendere il provvedimento e ci sediamo. La prima cosa per ogni dipartimento deve mettere un impiegato pronto ad aiutare i 150, 200, 300 medici che sono nel dipartimento primario innanzitutto a fare questo lavoro. È un po' più di flessibilità, di orario regolarmente codificato.